Ebbene abbiamo visto un pochino come quanto si imbandiscono le tavole a Natale, si avvicinano le festività, quindi è tempo di cenoni e pranzi e spesso si esagera. Noi vediamo come evitare fastidi e problemi, siamo in compagnia di Anna Maria Acquaviva, nutrizionista dietista, benvenuta, membro del consiglio direttivo dell'associazione scientifica alimentazione e nutrizione dietetica dei dietisti italiani. Purtroppo spesso a tavola si eccede durante le feste, che cosa si rischia? E' vero che festeggiare fa bene allo spirito, però dobbiamo essere anche consapevoli che qualche forchettata in più ci può dare fastidi digestivi e ci può far accumulare anche qualche chiletto di troppo. E come si può evitare di esagerare però godendosi comunque il momento di festa con la propria famiglia, insomma una bella cena, un bel prando, si può prevenire in qualche modo? Sì, assolutamente. Come ricordo sempre i miei pazienti non si ingrassa da Natale a Capodanno ma piuttosto da Capodanno a Natale, quindi sono i 365 giorni all'anno che ci fanno aumentare di peso, piuttosto che la singola occasione. La cosa importante è seguire qualche piccolo consiglio. Innanzitutto cerchiamo di mangiare un po' di tutto evitando gli eccessi, quindi le portate saranno tante, poi abbiamo sentito quanto è importante, insomma, i piatti più importanti della nostra gastronomia. Siamo in Emilia Romagna, quindi tra tortellini, agnolotti, capelletti, come farseli sfuggire? Quindi è importante mangiare un po' di tutto ed evitare i propositi drastici, quindi non si fanno digiuni durante i passi più importanti che ci porterebbero in calo di zucchero e comunque peggiorerebbero la situazione. È bene invece mangiare lentamente perché così favoriamo anche il nostro senso di sazietà che, pensate, si percepisce solo dopo 20 minuti che cominciamo a masticare. Quindi se mangiamo più lentamente saremo più sazi. C'è qualche cosa che dobbiamo centellinare di più, piatti magari più calorici rispetto ad altri? Sì, assolutamente. Innanzitutto, in caso di avanzi, se possiamo condividerli con gli altri commensali è una buona strategia. Ricordiamoci che li possiamo refrigerare, così, lontano dagli occhi, lontano dal cuore e poi sicuramente dopo ce li possiamo centellinare. I panettoni e pandori che sono tipici della tradizione, la mattina colazione possono essere una valida soluzione. Abbiamo parlato di prevenzione, invece come correre ai repari se si è esagerato un po'? Se noi abbiamo esagerato, allora innanzitutto cerchiamo di compensare il pasto troppo ricco con un pasto invece un po' più delicato, ricco di verdure. In questa stagione con il freddo sono ottime anche le vellutate, ad esempio. Poi cerchiamo di compensare con un po' di attività fisica, sano movimento e beviamo tanti liquidi. In chiusura chiederei anche, insomma, noi parliamo ovviamente, è importante mantenere l'ordine dei pasti, insomma, per noi adulti che dovremmo già anche saperlo, insomma. Ma per i più piccoli, insomma, voglio dire ovviamente periodoli dolci anche per loro, come si può gestire, insomma, la festa per loro senza toglierla troppo, ecco. Sì, è importante sapere che naturalmente in questo periodo le scuole sono chiuse e si perde un po' il ritmo dei pasti, invece si tende quindi a, i bambini si svegliano un po' più tardi, mangiano meno al pasto principale e le merende, le colazioni invece sono molto più ricche. E sono i momenti in cui si tende a mangiare un po' più grassi e zuccheri. E' bene invece che i bambini non perdano il ritmo dei pasti, quindi mangino le cose essenziali, tutti i nutrienti nei pasti principali e in questo periodo con la chiusura delle feste e di tutte le attività sportive possono fare un po' di passeggiate con i genitori. Benissimo, io ringrazio allora la nostra ospite Anna Maria Acquaviva per questa chiacchierata su le abbuffate natalizie e anche come evitarle. Grazie, ora noi torniamo alle notizie.